Sneak out Sneak out ragazzi Allora seleziona le regione Risvegliata Molora mi ha fatto aprire la sua conversazione In cui c'era Marza che se lo prendeva Gola davanti a Red Bull A proposito che cosa hanno detto I ragazzi di Red Bull Tanto un giorno prima c'era un ragazzo Mi ha fermato in giro mi fa ma tu sei quella Dei bocchini quindi la mia reputazione Era già fottuta da 24 ore Prima non è cambiato niente Billi comunque essendo troia del mese di febbraio Dovevi aspettartelo eh Capito stiamo a giugno però Billi devi migliorare Ragazzi ormai sono scesa dal treno Guarda quanto è sorridente Il pinguino serifo Ok siamo con Garbast e Apollion Apollion fammi un pochino Ma sta scorreggiando Come fa a scorreggiare Come hai scorreggiato Con control Con control Ok qua mi sa che si decide Chi è il criminale Ma voi vedete quello che vedo io Sì Garbast Garbast Oddio è la morte Dobbiamo nasconderci Permesso Maria Si può nascondermi Ma mi nascondo Ho buttato una trappola No Billy Ho buttato una trappola Ma perché ti ci sei buttata dentro Bro Stop Bro Bro Ok Non importa Entrato in un armadio Ma cos'è sta roba una task Ma come dobbiamo fare i task Ma lui dov'è Non lo so esattamente che cosa dobbiamo fare Ragazzi non riesco Aiuto Ciao Ciao Ci sono delle tasche in giro Ma possiamo tirarle addosso la roba Ci devi fai i soldi perché così Oh qua c'è uno con questo Ah Ok ho trovato Non facciamo sapere dove è lui Ho trovato un molluro Eh non lo so Mi sa che non lo sappiamo Hai trovato un molluro? Sì Devi fare le queste Quali? Sono soldi 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 Cos'è sto libro? Oddio Fabio Madonna 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 i soldi Aspetta Ah ok ho capito Ah si tirano così Eh ah ma lui dove cazzo è Oh Aspetta Bravo tirano lì Tutto giù tutto giù tutto giù Tutto giù qua Quando c'è no le monete Abbiamo un primo gli altri soldi Sti cazzo Ragazzi la quarta guerra nucleare Eh sì la quarta guerra nucleare La quarta guerra nucleare Compito labirinto completato Ah ce le fa Non lo so se qualcuno Il libello eliminato No per ragazzi ma 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 ha tranciato Sta puttata Oh merda ma è qui lui Beh Fabio Almeno so dove non andare Grazie Oddio ma posso aiutarvi Almeno schermo di venta rosso vuol dire che è vicino Ok Dobbiamo finire questa E io sono qua con napoleon Questo 28 su 50 tra l'altro Possiamo rianimarla se troviamo la tomba E qua è la tomba No c'è il tizio qua eh ragazzi Il tizio sta arrivando da te mollo Ok Sta arrivando Occhio Una banana Oddio Oh oh Non posso fermarti No 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 Arriva 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 No Accamperà Seppero sotto le monete Che pezzo di merda Io sono non al tipo adesso che ci faccio la pacchetta la tomba a testa di cazzo devo fare solo doma 2 scopare tv e non mi fava niente io sto tre al dara finita a sé uno dei peggiori giochi che abbia mai visto se un tuo team è una palla può rianimarti e metto trova una pala una pala una pala peshe levati pesche peshe pesche peshe e show ma se veramente fuggì ragione che tappado ragge ci sei rimasto solo tu entriamo entriamo dentro le cose questo vado addosso si impara e scopo la tomba di millivella portare aperto e modi riuscì però come gioco e c'è il tipo che lo camper dobbiamo distruggere prendete un bidone un balun che cazzo si chiama un barile ok si può possiamo stunnare quindi resuscitata occhio fuggì manca polio ma c'è tipo una safe odio hai visto che ha fatto incredibile vediamo chi è tra di noi il traditore o no o no mia mente conosceva il gioco ma che devo fa di soldi le dei gombi di e devo capire dove si compra la roba ti manco solo questo stai quest'anno o se trovi il negozio dimmelo alleva di questa sedia viene qua viene qua viene qua quindi marlena torna a casa che tempo fa si parla a troia nel mese di febbraio Roma che è qui ma come cazzo l'altro ma non l'ho trollata sicura qualcosa pesce questo se deve fatto dove sei fabio suga parla a troia nel mese di febbraio vivi bravo bravo mi ha suscitato billy perla ok no no oh porco oh porco oh ciao billy basta da te grazie grazie ho tornato muovi di porco di no no ma ragazzi ma che devi fa quando uno è di zzzzzzzzzzzzzz eh non cacato ho cacato ciao barile no 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 tranquillo ma quindi in base a quanti soldi fai ragì ähm di zzzzzzzzzzzzzz godò testa di cazzo oh via io però non te l'ho detto così eh fabio ma dove sei dimmi ragès dove sei Io per essere onesto non sto camperando il punto in cui prendi le pale Ah perché c'è un punto dove prendi le pale? Eh sì No! Andrea non starei su Twitch forse No fotti di tu e sta banana Oddio! Non ci no che pale Dai ma ragazzi Il cacciatroia ha vinto Ho vinto io Ho rivolto al cipitero La troia del mese messa in attacco Ragazzi non funziona Sì sì Troia del mese in attacco Devo farlo io? No lo fa Pesh Vabbè già vinto allora Devo farlo? Eh ci devi inseguire Pesh stiamo giocando a questo gioco anche con te Piccoli Dove sono? Sporchi Lo chiapponato Ma giusto Billy poteva averci a scopo Vado? È andata Come sa che mi ha visto? Impossibile? Niente Billy ma non puoi morire per prima ogni volta Ma la stavo crescendo No guarda Lasciamo Lasciamo Vieni qua Vieni qua a testa di cazzo Mi marlena torna a casa Ma come si sono schinnati ragazzi? Ah bum bum è stato fatto a pezzi Esce mi stanno le ore suscita La gamberi La gamberi La gamberi C'è una voglia di zucchine gamberi Non è così Dai È eliminato Ma tutti qua Questo campero a Pesh Non c'è Palli Speramente come Stavo qua Stavi a campera come un bastard Vai la c'è Porco di Via 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 Stà campera qua questo È uno schifoso laido Hai caduto con la banana Vai 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 prendilo Oh no È finita per me No 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 Go, 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 go Scat Billy vivi Vivi Vai vai Ok Diof 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 Ok Ok Cazzo De nascondi davanti a me Buttana Che so Coglione Ragazzi ma sono ancora l'ultimo In piedi Allora Che campera Ma che cazzo Guarda stai davanti le tombe Fermo Cioè Però adesso l'ho uccisa la buttana Qua fermo Cioè Bo Sveglia Ma come passo io qua in mezzo Non passo Cazzo non trovole questa No come non trovi questa Eccolo A me perché non me lo da lui Dove cazzo è Eeeh Ti piace questo Poi cosa vuoi un bocchino Sì vorrei un bel bocchino Non ci credo Perché questa non la posso prendere Devi andare Devi andare Devi andare Me ne vado No 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 Oh Che avete fatto Stavo a campare sulla porta Goto 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 Bravi Sono venendo in mobili Moni sai cosa puoi dire Sia un prete che ha un cameriere Per me va bene una bionda piccola Lol No ragazzi non posso più shoppare Oh No Ma dai Ma che culo Ma che culo Ma non è possibile Ride bene Chi ride ultimo Poi scusami Perché sto gioco in sei Se ci sono otto spazi Eh infatti C'è Deb Ragazzi Eccolo Eccolo Non sarà la prima a morire Eccolo Non sarà la prima a morire Non sarà la prima a morire questo sta già fatto che da se non vede che sneak out e la sua vita come paresemente ma se ho fatto una quantità risolvere paura d'altro lato ha ucciso ucciso ho preso una banana ok compito labirinto completato che cazzo giro kama si ma sento dei rumori qui pili bella ma che pensavi di farmela vingendo di un mostro io sto facendo le queste cose che dovevi fare tu porco di ho liberato la bestia nota in giro kama no come si vince sto gioco come rianimi come si spara c'è una bacchetta magica pesciolone pesciolone quando vai cazzo corri fa ho fatto il livello e up stanno liberando muzzolini ragazzi stanno liberando muzzolini dove cazzo sta ma com'era già essere suscitato porco 2 no 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 dammelo dammelo chi è che FDA no Eh che palle, godo, godo Adesso basta Godo, 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 godo Troppe sedie Ma vaffalculo Ma com'è possibile? L'unica che non doveva resuscita Fesciolo Ah non eri tu, era Tanjiro Kamara Fermati Il nome della legge Fermati Ma com'è possibile? Basta Fermo Andare a uccidere Billy Ragazzi ma Tanjiro Kamara è il giocatore più forte di questo gioco Mi sa un franco Billy Ma che devo fa? Godo? Madonna di Dio Guarda che schifoso va a camperare Certo Porca mamma Ah ma dove cazzo sono? Mi pensavo di essere la sedia Rallenta un attimo, fa dai No ho sbagliato, sono nato mio amico Eccolo Oddio 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 Non ci credo Ragazzi ricordatevi sempre che nella vostra vita se siete bravi a fare qualcosa smettetela di farla perché c'è un cazzo di fantastico ragazzo asiatico che ogni volta sarà migliore di te Ricordatevelo Sì 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 Sì